Il libro non l'ho portato. Come si intitola quest'ultimo? Sì. Com'è il titolo? Eh, non me lo ricordo. Quando ho fatto Molière, sì. Il corghetto di Vintiluomo di Molière. Qual è il mezzo che ti piace di più? Guarda, direi, io a teatro è dove sono a casa. Veramente io lì sono veramente a casa. Perché non mi ricordo... Eh, ragazzi, un'amnesia può essere... Non sono ricordato. No, davvero. Non è vero. Allora, siccome fa il pulgo, questa è una vecchia gag che ci portiamo da una vita. Il libro si intitola Adesso Tu.